Benvenuti nel mondo degli orologi REC Watches. REC Watches è un marchio di orologi danese che si contraddistingue per la sua filosofia basata sul recupero e la riutilizzazione di materiali provenienti da auto e moto d'epoca. Fondato nel 2014 da due amici appassionati di motori e di orologeria di alta gamma, Jonathan Kamstrup e Christian Mee, REC Watches si è affermato sul mercato come un marchio innovativo e sostenibile. Ogni orologio REC è un pezzo unico, realizzato con parti e componenti provenienti da veicoli d'epoca come Porsche, Mini Cooper, Ford Mustang e Honda CB750. Grazie al recupero di questi materiali, ogni orologio racchiude la storia e la personalità del veicolo donatore, creando un connubio perfetto tra la passione per i motori e quella per l'alta orologeria. I materiali recuperati vengono selezionati con cura, smantellati e lavorati a mano dai maestri artigiani del marchio, che ne valorizzano la bellezza e la qualità. In questo modo, ogni orologio REC diventa un esempio di eccellenza artigianale e di sostenibilità ambientale. Ogni orologio REC è dotato di un movimento di alta qualità, che garantisce precisione e affidabilità. REC Watches è un marchio che si preoccupa anche dell'impatto ambientale della propria produzione, e per questo motivo, utilizza esclusivamente materiali riciclati e sostenibili. I modelli di REC Watches sono tra i più ambiti del mercato dell'orologeria di alta gamma, grazie alla loro eccellenza artigianale, al loro design eclettico e alla loro sostenibilità ambientale. Gli orologi REC sono perfetti per chi cerca un orologio unico nel suo genere, che racchiuda la storia e la personalità di un veicolo d'epoca e che sia al tempo stesso di alta qualità e sostenibile. Se sei un appassionato di orologi e di motori, non puoi non conoscere REC Watches. Scopri la loro collezione e lasciati conquistare dalla filosofia del recupero e della sostenibilità.